Tornai nell'Apostolo contento per chi a Gerusalemme ricompagna Gesù è risuscitato veramente se poi asciutta il lacrime che gli aggna l'avevamo vista noi con noi ha mangiato parlava come parla Gesù Cristo ha benedito il pane e l'ha spezzata non potremmo giurare l'avevamo vista forse per gioia forse per sconcerte nessuno si poteva fare capace ma senza che il portone fosse aperto Gesù trasette e la ricetta pace guardatemi, toccatemi, sono io sono io che porto ancora queste ferite è stata fatta a volontà di Dio io sto anche qui e voi non ci credete portatemi a mangiare e con mattina a tavola con loro s'assettaio e le ricette e Dio chiesti o con manna commettere voi a vita chi beccaia e a forza che Dio mi promettete ecco io vado a mettere in tuo cuore iate per il mondo e quello che io facete facete pure voi portate amore amore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.